buongiorno a tutti oggi facciamo un'altra ricetta sempre questa pure facile peperoni tagliati in padella ripieni d'ovo aspetta un attimo se lo solisci lo scalogno e se lo solisci in questi devono cuocere piano piano perché ne potevo coprire sennò si vede di rossi da questi sono fatti e sennò sotto sono rosoliti